Consegnato per Jeremy Senglin, accoppiato a Luau Cabarro, finta il blocco reverse. Senglin mette palla per terra, chiude il palleggio, si inventa un tiro difficilissimo in fade away. Palla nell'angolo dove c'è Enim contro Devonol, cambia su di lui Luau Cabarro, attacca Enim in linea di fondo per poi armare la mano di Jeremy Senglin, tripla avversario. E sul cambio difensivo rimane con Kylines, molto aggressivo come al solito quando cambia e deve difendere contro una guardia, Senglin lo attacca, alza la parabola, appoggia il tabellone, segna canestro difficilissimo. Palla con Cinciarini, questo momento a giocare off the ball, nell'angolo, Senglin veste panni del playmaker, tiene palla. Per Schakot in questa fase della partita, Olisevicius guarda il taglio di Hopkins per poi tornare proprio da Senglin con quattro secondi, attacca Mitrulong, tripla in, step back, Jeremy Senglin!